Progetti di rilancio e investimenti anche per il real sito di Carditello a Caserta. Pasquale Piscitelli. Spettacole questre nella real delizia di Carditello. Curiosità e tante emozioni poter ammirare da vicino l'evoluzione e gli arditi incroci delle tradizionali figure del carosello storico del IV Reggimento dei Carabinieri. Ritorna a risplendere la reale tenuta barbonica da due anni fondazione. Dopo il lungo obbligo aumentano i visitatori con nuovi traguardi. Siamo ben oltre 40.000 visitatori dall'anno scorso. La novità è la costituzione di una cooperativa da parte dei volontari di Agenda 21, cooperativa che servirà ai servizi aggiuntivi al turismo e al territorio. Per la fondazione Carditello 17 milioni di finanziamenti già stanziati per completare i lavori di ristrutturazione. Laboratori e aule per il CNR e CSM, oltre all'università per protocolli firmati, gli ultimi con la regione Campania. Nella quale ci dà un'assistenza alla polizia di tutte le nostre proprietà al di fuori della reggia. Abbiamo avviato un bando per la sistemazione di questo verde. Abbiamo oggi, anche ora una volta, abbiamo questo accordo importante con i carabinieri e finalmente anche con la polizia. Appena pronte le scuderie e i locali attrezzati, qui si alleveranno cavalli di razza grazie ai carabinieri forestali. Trasferiremo man mano i primi esemplari, i puletri, fino ad arrivare al regime a un'ottantina di cavalli presenti qui con una ventina di personale. Per il sindaco l'appello a una vigilanza maggiore militare, anche fuori cancelli del sito Borboni. Oltre al presidio qui all'interno della reggia, un presidio che sia anche sul territorio, perché è un territorio difficile. La storia del movimento...